Siamo estremamente soddisfatti dello stato dell'arte del porto, i lavori stanno andando avanti bene, siamo in perfetta nelle tempistiche del cronoprogramma e in più la nostra grande soddisfazione è che abbiamo presentato i primi corsi di formazione insieme ai responsabili di Cala del Forte per i posti da ormeggiatori. Questo è un po' un segnale del fatto che questa infrastruttura serve a portare lavoro e soprattutto sia proiettata verso le nuove generazioni e verso i giovani perché dal porto di proprietà di Monaco leghiamo un brand che può essere il futuro commerciale e soprattutto turistico della nostra città. Quindi insomma da un indirizzo ai ragazzi più giovani su come si potrà in qualche modo collocare, avere una propria attività in questo ambiente, in questo sistema. Quindi secondo noi è una scommessa assolutamente vinta, una scommessa per le nuove generazioni.